Si dice che tutte le strade portano a Roma. Ai protagonisti di questa storia è andata proprio così. Noi stiamo cercando di creare un'orchestra internazionale di musica con tanti musicisti stranieri. Che suona? Uno che suona. Solo questi dischi. Ah, solo i dischi. Sì. Noi stai. Scusa, la lingua è indiana. Sì, lo so, va bene. Ma l'ho imparata io. Io so di casetta. Però pure se la urli e fai, basta che ti fai sentire. Tanto la tingla, ti rinasci faccini i voci. Sì, lo so, va bene. Sì, lo so. Sì, lo so. Sì, lo so. Sì, lo so.